ciao a tutti ragazzi come state sono ancora io fratello del camino in questo video vi mostrerò una piccola griffata su un server di minacraft dei nerds intenti a costruirsi la propria casa di legno e merda sono ignari di quello che sta per succedere godetevi lo spettacolo ho già raccolto tutto lo corrente per griffare secchio di lava e accendino saranno molto utili per far piangere i nerds adesso devo solo aspettare la notte per uccidere qualche creeper e poter farmi un'unità di tnt questo blocco di sabbia mi sarà utile per craftarla vicino ad una spiaggia ne prendo altri che potranno essermi utili oh cazzo ho rotto il blocco sbagliato epic fail eccoli sono questi nerds a cui alagherò la casa di lava gli farò un buco sotto il culo con la tnt così grande che dovranno per forza cambiare zona farò finta di aiutarli per non destare sospetti tra i pochi utenti che popolano questo server ecco mi sono craftato l'accendino vi dico subito che non lo userò molto perché verso la fine avranno qualche sospetto su di me darò fuoco solo a qualche casetta e qualche albero qui invece sono intento a costruirmi un altro secchio così ne avrò a disposizione due per prendere la lava del secondo però mi recherò nel netter e da gran fratello del camino che sono sfuggirò ai fantasmi e ai pig zombie un utente mi chiede di seguirlo ma io gli rispondo che ho altre cose da fare cioè prendere la lava per distruggere la sua casettina del cazzo fatta di legno e merda dopo essermi messo a posto l'inventario sono pronto per andare nel netter e compiere la mia prima missione di grieffer gu gravitzer eccomi sono nel netter dopo un viaggio che mi ha fatto vedere i sorzi denti Adesso non mi resta che andare a prendere la lava E ma che cazzo succede? Pig zombie del cazzo Lasciami stare non voglio essere stuprato da te Devo studiarmi un piano d'attacco Per evitare di essere ucciso e perdere tutto E guardate un creeper Vieni qui bello Mi servi per fare la TNT Si cazzo si Adesso posso craftare la TNT Per far finire il video con un bel botto Eccomi qua Davanti alla crafting box in comune Per fare una unità di TNT E aspetta Mi sto confondendo Come si fa? Devo invertire la sabbia con la polvere da sparo Avevo ragione E vai e vai Visto che quella merda di Notch Nella 1.8 Ha cambiato il modo di innesco della TNT Sono costretto a farmi una plessure plate di legno Per poter innescarla Mi dispiace Ho dovuto tagliare la parte del nether Ma ci sono quasi Mi manca poco Dai ancora uno sforzo Non mi resta che tornare su Ma che palli ghost del cazzo La smetti di sputarmi Palle di neve infuacate Ci è mancato davvero poco a quest'altra Oh merda La vuoi finire Peccato che non ho l'arco Se no ti facevo un culo grande così Che culo che ho avuto Questa proprio me l'ha sputata sotto al culo Ma dai Ancora uno sforzo ci sono quasi E dai ci sono riuscito Adesso è ora Costruirò una torre di pietra Con piramide alla fine Così che la lava formi una bella colata Grossa grossa sulla casa del nabbino Andiamo Eccomi qua Guardate la casa del nabbino Fa veramente cagare Forse gli faccio un piacere a distruggerla Eccomi qui Ho costruito la torre di pietra E mi sto accigendo a fare la piramide Godetevi lo spettacolo Questa rara tecnica L'ho imparata dal master grieter capobastone Infatti Questo video non vuole essere una sua imitazione Ma anche io mi diverto a distruggere il lavoro che i nabbi fanno Così posso riportarli alla vita vera XD Oh ma guarda Ha anche finito di piovere E con questo faccio partire il conto alla rovescia 3 2 1 Via Banza Cerco il modo di piazzare la TNT Senza che nessuno mi veda Ma il nabbo è proprio sotto di me Oh guarda Sento già un odorino di bruciato Ci sto mettendo troppo Meglio uscire da questa casa Ehi Che cazzo fate Non mi voglio unire al vostro orgiune gay Porca puttana La lava è già scesa Devo sbrigarmi a imbottire di esplosivo il culo del nabbino Basta Adesso ho mai più Piazzo la TNT E mi dirigo fuori con la velocità di uno scheletro arrapato Azionata la TNT Cerco di uscire e prendo fuoco Cazzo aiuto Merda mi serve acqua Qualcosa di liquido Anche della pisce va bene Ok ho trovato l'acqua Rifreschiamoci Ecco adesso vi faccio vedere come è venuta la mia griffata Molto bella Adesso ci mancano due cose Dar fuoco alle casette E dar fuoco anche a qualcuno Ecco è giunto il momento Brucia bello Brucia Ok per finire in bellezza do fuoco a qualche casa Ho disturbato la quiete di un piccolo server Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Grazie per averlo guardato Alla prossima Grazie per aver guardato il video